Per i miei simili, le stagioni durano generazioni intere. E al sopraggiungere di ogni stagione di guerra, noi combattevamo. Ma una volta sconfitto il nemico, il mio popolo ha messo radici. Ora il mondo torna a bruciare. Il pericolo non è nuovo, ma è più potente che mai. E se nessuno ha intenzione di sventarlo, allora toccherà a me insegnare a quegli attaccabrighe che la mia determinazione è forte quanto la mia corteccia. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!